Martedì 28 gennaio 2014, ben ritrovati con l'informazione di lucaniatv.it. Partiamo subito con le notizie. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Scalea hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare tra Praia Mare, Tortola e Napoli. L'accusa è di violenza sessuale. L'operazione dei carabinieri, denominata Orchis, è stata conclusa dopo indagini approfondite tra il 2012 e il 2013. Nelle prossime ore avremo ulteriori particolari. Si è avvertita, in modo abbastanza netto, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nella serata di lunedì 27 gennaio sul territorio di Lauria alle ore 22.40 circa. La scossa non ha causato nessun danno, ma il susseguirsi di movimenti tellurici, anche di lieve entità, preoccupa sempre di più i cittadini. La frana di Senise continua a dare preoccupazione in tutta la zona. Si susseguono i sopralluoghi dei tecnici regionali al fine di mettere in sicurezza l'area soggetta a smottamento, che pare si tratti di un disastro annunciato abbiamente denunciato addirittura dal lontano 2009. La situazione resta di grande allerta e spinosa in quanto interessa sia una zona privata che una zona pubblica che porta all'ingresso del paese. Per motivi di cautela, la strada resterà chiusa per l'accesso alle aree strettamente in vicinanza allo smottamento. L'assessore alle politiche per la persona della regione Basilicata, Flavia Franconi, ha chiesto al direttore generale dell'Asp di Potenza, Mario Marra, un rapporto dettagliato per conoscere esattamente la dinamica sulla morte della neonata all'ospedale di Villadagri. L'assessore Franconi esprime particolare vicinanza alla famiglia. Intanto ci giunge nota che la direzione sanitaria dell'azienda sanitaria di Potenza ha avviato un'indagine interna, finalizzata ad accertare i fatti ed eventuali responsabilità. Il presidente della regione Basilicata, Marcello Pittella, ha respinto le dimissioni del commissario regionale per le iniziative anti-racket e usura Egidio Basile. Pittella, inoltre, ha annunciato che per rendere il lavoro del commissario più incisivo ed efficace, la Giunta approverà la riforma della legge numero 7 del 2011 sulla prevenzione dell'usura e dell'estorsione. Il nuovo coach della Oracom Virtus Fari Salerno è Giuseppe Iannarella. La società, nei giorni scorsi, ha comunicato alla stampa di aver raggiunto l'accordo con Iannarella, che guiderà per quest'anno, 2013-2014, la Oracom Virtus Fari Salerno, che milita attualmente nel campionato nazionale di Serie B2 Femile. Bene, con questa notizia di sport termina il nostro appuntamento flash del martedì, appuntamento giovedì, sempre qui su lucaniantv.it.